Uno dei parchi acquatici più famosi d'Italia, si trova qui nel litorale laziale a Toropagliani, che è lo Zomarin, ha visto dei momenti di paura perché ovviamente si è bloccata una torre, una macchina con 17 persone sopra, un'attrazione che si alza, tipo quella che sta a Magic Land, a Palmontone, una piattaforma che si alza e per far vedere dall'alto il parco di divertimenti di Palmontone, in questo caso il parco acquatico di divertimenti che si trova allo Zomarin a Toropagliani, dove c'è il belfinario, molto bello. Però insomma 17 persone hanno patito non solo il caldo, che fanno molto caldo in questi giorni, ma anche appunto questo spaletto. Questa è una notizia che è stata, anche se non è comunque una notizia diciamo drammatica o tragica, meno male, comunque è stata molto diciamo messa in evidenza da alcune testate giornalistiche, anche su internet, io ne faccio eco anche perché vivo vicino a Roma e quindi conosco lo Zomarin e il mio commento è che comunque queste cose possono succedere, che tutto è fino a bene, sono stati tratti in salvo da, in salvo possiamo dire fatti scendere dalle, dalle gifo del fuoco. Questa è una notizia, se non la sapevate, è orato io, ciao a tutti, arrivederci.